Buonasera a tutti, buonasera da Matteo Borzi, eccoci collegati in diretta dall'Accademia dei Fisiocritici per questa tavola rotonda dal titolo Carbon Neutrality, come valorizzare il primato di Siena. Innanzitutto ringrazio personalmente l'Accademia dei Fisiocritici per questa opportunità e voglio subito introdurre questa serata nella quale anche voi potrete ovviamente interagire, e partecipare voi che ci state seguendo da casa o dai vostri dispositivi mobili perché sarà una serata molto coinvolgente da questo punto di vista, temi molto attuali che sicuramente vale la pena di approfondire. Allora intanto io vado a presentare gli ospiti di questa sera che compongono questa tavola rotonda. Partiamo da Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente della Società della Salute. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E poi abbiamo Simone Bastianoni, presidente dell'Alleanza Territoriale Carbon Neutrality di Siena e docente di chimica dell'ambiente e dei beni culturali dell'Università di Siena. Buonasera professore. Buonasera, grazie. E buonasera a tutti. E accanto a me Roberto Rappuoli, responsabile della ricerca e sviluppo del Podere Forte, un'azienda di Castigliondorcia. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Roberto Rappuoli che è anche un chimico farmaceutico, con lui avremo modo di scoprire appunto questo esempio che è appunto il Podere Forte che vedremo insieme tra poco. Prima però è giusto introdurre chi farà gli onori di casa, chi ci ospita questa sera e per il quale lo ringraziamo ovviamente. Andrea Benocci che è conservatore del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici. Buonasera. Buonasera, io porto i saluti e ringraziamenti del Presidente dell'Accademia, il Professor Giuseppe Manganelli. Lui purtroppo non è potuto essere presente stasera per un impegno pregresso con la didattica, con i suoi studenti. Comunque ci tiene appunto a dire attraverso le mie parole che l'Accademia dei Fisiocritici è ben lieta di ospitare questo evento. L'Accademia da sempre si interessa di salvaguardia dell'ambiente e diciamo è molto attiva in questo campo ultimamente attraverso la divulgazione ambientale, soprattutto attraverso le attività che si rivolgono proprio anche alle nuove generazioni e anche attraverso la ricerca che porta avanti continuamente. Quindi a testimonianza di questo, dallo scorso aprile è entrata a far parte dell'alleanza territoriale Siena Carbon Neutrality e ci teneva proprio a dare ampio risalto a questo importante primato che il nostro territorio, che è la provincia di Siena, ha raggiunto e conquistato. Quindi ci tengo a ringraziare i relatori, ci tengo a ringraziare per la sua presenza il Sindaco di Sovicille, Gugliotti, e i due relatori fisiocritici, il professor Simone Bastianoni e il dottor Roberto Rappoli e ringrazio anche Matteo Borsi per moderare l'incontro. Lascio a lui la parola per portare avanti appunto questo interessante incontro. Ricordo solamente che c'è la possibilità di seguire la registrazione dell'evento sul canale YouTube dell'Accademia dei Fisiocritici e durante tutta la tavola rotonda, per chi volesse, ci sarà la possibilità di fare delle domande sulla chat del canale YouTube. I relatori saranno felici di rispondere a queste domande al termine dell'incontro. Con questo vi saluto, ringrazio nuovamente tutti i relatori, Matteo Borsi, e ringrazio anche chi si è collegato per seguire questo evento. Buona serata. Grazie dunque ad Andrea Benocci e come appunto ha anticipato, ricordo che potete seguire questa diretta e successivamente ovviamente rivedere questa tavola rotonda sul canale YouTube Accademia Fisiocritici Siena. Io direi di entrare nel vivo del nostro dibattito, visto appunto anche l'importanza degli ospiti che abbiamo questa sera. Partiamo dal professor Simone Bastianoni, perché il professore ci mostrerà adesso delle slide, una piccola presentazione, così come farà successivamente Roberto Rappuoli. Quindi poi da lì partirà appunto un po' il nostro dibattito, la nostra discussione su questi temi. E allora, Simone Bastianoni, a lei la parola per vedere appunto questa presentazione. Grazie, grazie davvero. È stato molto molto bello nel momento in cui ho avuto modo di parlare col presidente Manganelli dell'alleanza. La reazione che c'è stata da parte sua e da parte degli altri membri dell'Accademia con cui ho riuscito a parlare in questa occasione, di grandissimo entusiasmo. Devo dire che la cosa non è che mi ha sorpreso, però mi ha veramente reso felice. La prima cosa che mi hanno chiesto è stata, sì va bene, ma devi venirci a fare una presentazione su questa cosa, perché è bene che tutti sappiano queste cose. E io ben volentieri adempio a questo dovere e piacere di essere qui appunto come membro dell'Accademia e quindi mi pregio anche di questo onore a raccontare questo primato di Siena. Veramente una breve storia. La provincia di Siena ha cominciato molto presto rispetto a tanti posti nel mondo, direi a quasi tutti, a usare indicatori di sostenibilità per fare politiche. La cosa più concreta poi si è sviluppata a partire dal 2008, quando è stato iniziato il progetto che si chiama Vareges, di monitoraggio appunto delle emissioni, degli assorbimenti di gas serra. Alla fine del primo anno di analisi, con un bilancio che era intorno al 72% degli assorbimenti naturali della provincia, dei boschi della provincia rispetto alle emissioni, il presidente di allora, Fabio Ceccarini, gli disse bene, allora se questa è la situazione io voglio che la provincia diventi carbon neutral, carbon free, diceva, carbon neutral è meglio dire, entro il 2015. E da allora questa cosa è diventata, diciamo, il bilancio di gas serra è diventato uno strumento per fare politica, le cose sono andate avanti molto velocemente. Questo è il grafico delle emissioni in blu e degli assorbimenti in verdino chiaro, il giallo è il bilancio, quando è di sopra vuol dire che ci sono più emissioni che assorbimenti, quando va sotto rispetto all'innea dello zero vuol dire che gli assorbimenti hanno superato le emissioni, che è bene. E vedete che dal 2011, per l'appunto, la provincia di Siena è carbon neutral. E da allora le cose appunto sono andate avanti con delle oscillazioni dovute a vari fattori e che a oggi, vedete, risiamo vicini alla parità, dopo che c'è stata un po' di controtendenza nelle emissioni dovute all'uso dell'energia negli ultimi 3-4 anni. Questa cosa, appunto, dal 2011 Siena è carbon neutral, per questa cosa è stata premiata a livello dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si occupa di ambiente, l'UNEP, in due occasioni e quindi quest'anno è il decimo anniversario del raggiungimento della carbon neutral. In questo periodo la provincia ha fatto delle cose, ha fatto delle politiche, un piano energetico provinciale fatto dal professor Basosi, sempre della nostra università, che ha condotto all'indipendenza energetica. Prima importavamo 115 GWh di elettricità e oggi invece esportiamo circa 400 GWh di elettricità, prodotta soprattutto grazie alla geotermia e che quindi non ha un apporto netto di CO2 in atmosfera rispetto a livelli naturali. Un piano di rifiuti che ha portato da 40 a 1 le discariche presenti in provincia e le discariche emettono metano. Il metano ha più di 30 volte il potere di fare serra rispetto all'anidride carbonica. Pulizia annuale delle caldaie, questa è una cosa che ormai dico spesso, ma è una curiosità che va spiegata. Il piano annuale di pulizia delle caldaie, che è stato preso con una vessazione da una parte del pubblico che magari ci sta anche ascoltando, ha voluto dire, a parte l'aumento della sicurezza nelle nostre case, ma anche il fatto che in questo periodo abbiamo misurato che per utenza i consumi di metano sono diminuiti del 30%. Questo probabilmente è anche dovuto al miglioramento tecnologico di alcune caldaie, ci sono state facilitazioni economiche anche per questo, ma considerate appunto che quello che si paga ogni anno per la pulizia delle caldaie 100 euro circa, sono più un investimento per pagare meno poi in bolletta che non una spesa vera e propria. Se c'è stato un difetto nel percorso che ha portato Siena a essere carbon neutral sotto la guida della provincia, grazie ai fondi messi a disposizione della Fondazione Monterepaschi, è stato il fatto che è stato un progetto molto, si dice, top down, calato dall'alto e quindi c'è stata poca informazione e non c'è stato un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini per il raggiungimento e per il mantenimento del risultato. È per questo che negli ultimi anni è nata l'alleanza territoriale Carbon Neutrality, due punti Siena. Il nome è lungo, ma vuole dire alcune cose importanti, di cui l'ultima è quella su cui mi soffermo. Due punti Siena è perché vogliamo mostrare che l'esperienza è esportabile, cioè può essere alleanza territoriale Carbon Neutrality, due punti qualunque posto. Vogliamo fare da modello e in parte ci stiamo già riuscendo in questo senso. È nata dai fondatori, la Fondazione Monterepaschi, l'Università, il Comune, la Provincia e la Regione Toscana. Si sono aggiunti man mano, Estra sia in ambiente 6 come membri sostenitori dell'alleanza e poi tutta una serie di partner, che vi leggo per paura di scordarmene qualcuno, che fortunatamente stanno aumentando ulteriormente. Ci sono ulteriori richieste di adesione che stiamo valutando in questi giorni, Camera di Commercio, 0CO2, Argiano, Associazione Propositivo, RCR Cristallerie, l'Accademia dei Fisorici Critici che ci ospita e Vezua. Fra gli ambasciatori abbiamo l'Istituto Sarrocchi come scuola. Perché c'è un'alleanza ora? L'alleanza c'è perché c'è bisogno dello sforzo collettivo a questo punto, quello che poteva essere calato dall'alto, è già stato utilizzato in larga parte. Oggi c'è bisogno che tutti facciano la loro parte, tutti noi cittadini, tutte le aziende, ne abbiamo un rappresentante qui apposta, tutte le amministrazioni locali, ne abbiamo un altro rappresentante qui apposta, proprio perché a questo punto questo 100,6%, l'ultimo dato disponibile al 2019 appena rilasciato, ci fa vedere che la tendenza è pericolosa. Stiamo risalendo verso un surplus di emissioni rispetto agli assorbimenti. Quindi prima che questo succeda abbiamo probabilmente una garanzia sul 2020, ma già al 2021 possiamo correre qualche rischio. Quindi è urgente intervenire da oggi per cercare di migliorare ulteriormente le cose per poter poi fare delle ulteriori azioni e potersi, perché no, vantare ulteriormente di questo primato che abbiamo raggiunto. Grazie a tutti. Grazie al professor Bastianoni. Come avete sentito, l'introduzione a questa tematica, che poi appunto è il tema di questa sera, Carbon Neutrality, come valorizzare il primato di Siena. Avete sentito che ormai è un primato che c'è da diversi anni. La sfida sarà ovviamente quella di mantenerlo. Ma io ho già alcune curiosità che vorrò chiedere poi al professor Bastianoni, lo farò più tardi, ma lo potete fare anche voi. Chi ci sta seguendo in questo momento ricordo che può assolutamente scrivere per porre delle domande ai nostri ospiti. Come ho accennato in apertura, abbiamo anche un esempio di un'azienda che sta adottando politiche che vanno nella direzione della Carbon Neutrality. E come promesso diamo la parola al dottor Roberto Rappuoli. Roberto Rappuoli, responsabile di ricerca e sviluppo del Podere Forte, questa azienda che ormai può essere definita Carbon Neutral. Credo che sia un bel esempio di sostenibilità in un ambiente agricolo. Noi, il Podere Forte nasce circa 20 anni fa in Val d'Orcia e anno dopo anno sta mettendo in pratica una serie di azioni sempre più rivolte verso la sostenibilità, verso la salvaguardia dell'ambiente. Io questa sera innanzitutto ringrazio l'Accademia per avermi invitato, in particolare la dottoressa Chiara Bratto che mi ha coinvolto in questa tavola rotonda. Vorrei raccontare un attimino quello che noi nel nostro quotidiano facciamo. Con una premessa, ritengo che il progetto del professor Bastianoni, che conosco ormai da diversi anni e lo conosco sul piano personale, ma conosco anche il progetto da quando ha mostrato i suoi primi passi, credo sia un progetto ancora oggi molto attuale, sia un progetto che possa veramente valorizzare la nostra provincia di Siena e dare valore aggiunto alle aziende che in qualche modo seguono questi indirizzi. Quindi credo che si possa andare ancora in questa direzione per cercare di identificarsi sempre di più nelle nostre attività imprenditoriali principali, che poi sono molto legate all'ambiente. Penso al turismo e penso all'agricoltura, sono due settori che in qualche modo sono legati molto strettamente alla tutela dell'ambiente. E noi siamo appunto un'azienda, anche quella va in quella direzione, siamo un'azienda agraria essenzialmente e anche un'azienda turistica. Abbiamo quindi questa duplice attività. Il nostro motto, io introduco questa mia breve relazione con il motto del titolare, il signor Pasquale Forte, che appunto piace raccontare di dire lavoriamo ai campi come 2.000 anni fa e in cantina siamo 2.000 anni avanti. Cosa significa questo? Cioè cercare di mantenere tutte quelle tecnologie tecniche, buone pratiche agrarie che in qualche modo talvolta spesso nell'agricoltura, soprattutto di quella intensiva, sono andate perse, però con la tecnologia, con l'aiuto della tecnologia, dell'innovazione, che fanno sì di ottenere prodotti di altissima qualità, ma proprio per rimanere in tema della giornata odierna di salvaguardare anche l'ambiente. Siamo in Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità, facciamo dei grandi prodotti, questi sono il vino, l'olio, il miele, che tra l'altro anche questo ha un'importanza non solo produttiva e commerciale, ma anche appunto come sapete tutti di mantenimento dell'ecosistema, le farine, quindi coltivazione dei cereali, le farine, adesso anche la trasformazione in pasta e siamo un'azienda biologica, ma andiamo oltre il biologico, ci piace dire, perché? Perché in realtà diciamo noi abbiamo anche delle, quando un'azienda è certificata biologica segue dei dettami di un disciplinare, di alcune regole, di alcune norme. Ecco noi ci atteniamo a quelle norme, ma facciamo anche qualcosa in più, proprio nella direzione di salvaguardare diciamo quello che è il nostro territorio. Siamo quindi certificati ISEA, ormai come dicevo da vent'anni, abbiamo un'accurata selezione delle materie prime e questo è fondamentale perché ahimè spesso, non sempre, ma insomma spesso, soprattutto per scopi diciamo imprenditoriali, è più importante la quantità della qualità. Noi invece abbiamo messo in pratica una curata selezione di tutte le materie prime che arrivano in azienda per poi essere trasformate e questo credo sia un modo per già partire con il piede giusto in qualche modo. E poi siamo certificati come azienda biodinamica, siamo una tra le più grandi aziende biodinamiche certificate dalla Demeter in Italia e questo non tutti sanno cosa significa essere biodinamici, però è un valore aggiunto importante. All'estero è molto diffuso questo tipo di certificazione, è praticamente una sommatoria di buone pratiche agricole annesse a dei trattamenti a ciclo chiuso aziendale che permettono veramente di rispettare al massimo la pianta e di conseguenza i suoi frutti. Abbiamo gli allevamenti, gli allevamenti di chianine, di cinta senese, di pecore, ovicole, avicoli, insomma abbiamo tantissimi animali e questi sia per un discorso di filiera corta perché come vedete dopo abbiamo anche un ristorante ma anche perché appunto la biodinamica ci impone di individuare un ciclo chiuso, quindi anche gli scarti degli allevamenti sono utilissimi, anzi fondamentali per avere questo tipo di certificazione. Un grandissimo lavoro è stato fatto sulla recimilazione delle acque, la zona in cui si insedia a potere forte il centro aziendale era una zona molto dissestata da un punto di vista idrogeologico, sono stati fatti dei lavori imponenti che in qualche modo hanno garantito il mantenimento di quelle colline che altrimenti insomma pian piano sarebbero state rose. Abbiamo lì naturalmente l'impianto fotovoltaico, abbiamo una serie di trattori che costruiamo e progettiamo insieme alle aziende specializzate, questi sono trattori proprio personalizzati per la nostra azienda, alcuni dei quali vanno addirittura a batteria e quindi facilitano non solo l'impatto ambientale ma anche il lavoro delle persone perché le persone si spostano lungo i filari seduti con l'ombrellino con la batteria, quindi senza rumore, senza emissioni e diciamo con una qualità di lavoro molto più alta. Abbiamo iniziato ormai da quattro anni a lavorare con i droni, soprattutto con due approcci, i droni per le mappe di vigore, sapete che esistono delle particolari fotocamere che permettono di individuare le aree dei terreni che soffrono di più, che hanno delle carenze magari idriche in qualche modo e che conseguentemente poi possono portare delle cattive proliferazioni, diciamo della crescita della pianta stessa e quindi noi con queste mappe di vigore vediamo dove c'è carenza e quindi dove dobbiamo intervenire con degli interventi fisici, idraulici ad esempio per l'acqua oppure anche con gli interventi di aggiunta di sali minerali qualora questi possano mancare. E questo invece è un altro aspetto interessantissimo, il trattamento con i droni che ahimè ancora oggi in Italia è proibito per i prodotti chimici ma è consentito per i prodotti biodinamici. Immaginate voi quanto sarebbe bello vedere un'agricoltura diffusa in cui al posto dei trattori ci fossero dei droni che vanno quindi a utilizzare una quantità di prodotto molto più limitato cercando di dosarlo nel punto giusto. Abbiamo diversi tipi di droni quindi sia per la fotogrammetria legata alle mappe di vigore sia per i trattamenti. La lotta biologica è un approccio molto interessante su alcuni tipi di parassiti tipo il ragnetto giallo della vite, il sovescio, questo facevo prima anche le antiche tecniche, le buone pratiche agricole vengono comunque mantenute e anzi sviluppate come vedete c'è anche degli esempi di sovescio lungo i filari in modo da garantire questo apporto proteico che un tempo si faceva quasi esclusivamente su seminativi anche all'interno delle viti. La certificazione ambientale ISO 14000 che come vi dicevo prima è un modo per certificare un processo di salvaguardia dell'ambiente, tanto controllo analitico e di qualità sulla gestione dei prodotti, sulla qualità delle materie prime, tanta ricerca, abbiamo rapporti sia con le università di Milano, di Siena, di Firenze ma anche con il CNR, lavoriamo per esempio sulla lotta alla mosca olearia con dei trattamenti che stiamo sperimentando insieme al CNR di Milano e come dicevo prima tutti questi prodotti poi confluiscono nel nostro ristorante stellato che è l'Osteria per il là che noi abbiamo, ci piace definire, chilometro qui nel senso più che chilometro zero, un modo aggiuntivo per dire che i prodotti sono legati diciamo al territorio. Come qui all'Accademia anche noi facciamo dal 2015 l'educazione ambientale con la piccola fattoria forte in cui invitiamo bambini a fare corsi di cucina, corsi ambientali, riconoscimento di piante, insomma un programma abbastanza fitto che dura tutto il mese di agosto. Facciamo tanti confronti a livello anche internazionale con i più grandi agricoltori mondiali, soprattutto i vitivinicoli della Borgogna in particolare in cui ci confrontiamo, mettiamo a confronto le nostre produzioni, facciamo cultura perché anche questo secondo me va nella direzione di uno sviluppo diciamo adeguato di un'azienda, di un territorio, arte e quindi essenzialmente come si dice il risultato di tutto questo è l'ecosistema potere forte che caratterizza le produzioni garantendo appunto la genocidità, la salubrità ed un gusto ed un aroma ritrovati. Al centro di questo sistema naturalmente c'è l'uomo. Grazie a Roberto Rappuoli, responsabile della ricerca e sviluppo del Podere Forte, abbiamo scoperto qualcosa in più di questa azienda che insomma avete sentito e ci ha raccontato nel particolare come utilizza queste pratiche, come è arrivata appunto a raggiungere questo livello anche di rispetto per l'ambiente, di rispetto per l'ambiente agricolo e soprattutto di sostenibilità. Abbiamo, è il momento di andare al nostro terzo ospite che come detto è Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, presidente della società della salute. Io vorrei partire proprio da qui come presidente della società della salute perché ovviamente vivere in un ambiente più sano favorisce sicuramente anche l'aspetto legato alla salute. Senz'altro grazie davvero. Permettimi Matteo di ringraziare non solo l'Accademia dei Fisiocritici per questo invito, ma vorrei ringraziarla anche per aver posto l'attenzione su questo tema e per come è stato proposto anche il tema. Vorrei tornare un attimo sul titolo di questa serata come valorizzare un primato del territorio senese. Mi pare particolarmente importante questo aspetto. voglio sottolineare due elementi di questo titolo. Da una parte il primato, dall'altra la valorizzazione. Primo perché forse è anche un tempo in cui questa città e questo territorio hanno bisogno un po' di riacquisire fiducia e di sentire anche le proprie eccellenze. Il professor Bastenoni ci ricordava che questo territorio fin da tempi non sospetti sta lavorando su questo tema, è diventato un po' un modello a livello nazionale, forse anche internazionale, lo dico anche con una punta di orgoglio e ha traguardato dei risultati che altri territori si pongono come obiettivi fra 10, 20, 30 anni. Quindi credo che questo faccia bene anche al morale di questo territorio, soprattutto dopo gli anni che abbiamo vissuto e quelli che stiamo vivendo. Quindi riacquistare anche un po' di autostima a livello territoriale. E poi c'è l'altro elemento che avete posto in questo titolo, come valorizzarlo questo primato? Perché è vero, quello che veniva detto da chi mi ha preceduto, che abbiamo raggiunto dei risultati importanti che vanno mantenuti, che vanno salvaguardati, ma io credo che sia altrettanto importante fare di questo primato, di questo valore, che abbiamo raggiunto un asset anche di attrattività territoriale. In un momento in cui è, credo, particolarmente ricercato questo elemento di valore ambientale, ma non solo ambientale, in agricoltura, come Roberto Rappuoli ci illustrava poco fa. Quindi grazie per aver anche, a mio modo di vedere, centrato in maniera particolare il focus del nostro ragionamento. La domanda che mi poni è particolarmente centrata. Io sono qui anche come Presidente della Società della Salute Senese, come ricordavi, la Società della Salute Senese è un consorzio costituito fra i 15 comuni, in questo caso i 15 comuni della zona senese, con la USL, sulla base delle disposizioni della norma regionale. Ed è un consorzio che nasce come ente, diciamo, come soggetto che fa programmazione e gestione dei servizi sociosanitari, socioassistenziali, sociali in generale, ma anche fa programmazione sanitaria sul territorio. Ma nelle intenzioni, nelle condivisibili intenzioni del legislatore, c'è anche il proposito, con la costituzione di questo ente che si chiama per l'appunto Società della Salute, di porre l'accento sul fatto che la salute non è semplicemente l'assenza di malattie, l'assenza di patologie, che la salute non è semplicemente la sanità o il servizio sociosanitario. Ma la salute è una condizione di benessere che necessita per l'appunto di una integrazione fra gli ambiti sociosanitari, fra l'erogazione dei servizi, fra una saggia programmazione dei servizi sanitari sul territorio e l'emergenza di quest'anno e mezzo ci ha reso avvertiti di quanto sia importante anche avere servizi sanitari sul territorio che siano particolarmente capillari ed efficaci. Ma per assicurare la necessaria integrazione fra i servizi sociali, sociosanitari e le altre funzioni sociali pubbliche, fra i quali c'è le istruzioni, fra le quali c'è lo sviluppo economico, ma fra le quali fondamentalmente c'è l'ambiente. C'è la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ecco perché io credo che, e lo proporrò come Presidente della Società della Salute all'Assemblea, proporrò che la Società della Salute aderisca come soggetto all'alleanza. Tutti i comuni che compongono la Società della Salute sono coinvolti come soggetti autonomi. Ma credo che sia importante che ci sia anche questa adesione da parte della Società della Salute proprio per rimarcare questa integrazione, questo elemento di forte, di stretto legame fra la qualità dell'ambiente in cui viviamo e la qualità della salute e la qualità del benessere di cui appunto godiamo come cittadini. La legge istitutiva delle Società della Salute dice proprio che la Società della Salute ha l'obiettivo di rendere la programmazione delle attività territoriali coerenti con i bisogni di salute della popolazione. Quindi ecco perché io credo che sia importante che la Società della Salute stia dentro l'alleanza per rafforzare l'impegno di tutti al conseguimento di obiettivi strettamente collegati alla salute individuale e perché in qualche modo questo primato senese può rappresentare anche una buona pratica che va nella direzione di rafforzare la prevenzione e le condizioni appunto dell'ambiente in cui viviamo. Alla fine, lo dico anche un po' banalmente, credo che sia importante che passi questo messaggio perché questo poi ci aiuta in quella sinergia che è la base dell'alleanza. Credo che passi il messaggio e ritengo che in questa Società della Salute sia un attore importante. il messaggio secondo il quale i comportamenti virtuosi sono importanti non perché lo faccio per l'ambiente ma perché lo faccio per me, lo faccio per la mia salute, perché tante volte si sente dire lo facciamo, lo facciamo per la raccolta differenziata, la facciamo per l'ambiente. Sì, è vero, la facciamo per l'ambiente, ma fondamentalmente, e questo credo che sia il messaggio importante, la facciamo per noi, la facciamo per il nostro ambiente, per le nostre condizioni di vita. Quindi, alla fine, per la nostra salute, per il nostro benessere. Grazie a Giuseppe Gugliotti, Sindaco di Sovicille, Presidente della Società della Salute che ha appunto introdotto anche un tema importante, insomma, perché, insomma, e torno al professor Bastianoni, come diceva poco fa, Gugliotti, sì, lo faccio per me, lo faccio anche per un ambiente che, insomma, ci sta anche dando qualche segnale, no? Già dai cambiamenti climatici, ma anche altre cose che accadono. Ecco, io, questo è appunto un argomento, ma la domanda dalla quale vorrei ripartire con lei è un po' legata al come valorizzare il primato e, soprattutto, cosa potrebbero fare anche le aziende o comunque i vari soggetti presenti nel territorio per far conoscere il fatto che il nostro territorio ha questo primato? Cioè, come potremmo legare un aspetto di marketing, diciamo così, a questo primato? Comincerei da un aneddoto. Eravamo a Amsterdam con un collega collaboratore per un progetto su città carboneutral, su come fare a fare una transizione, appunto, di quartieri e di città a essere carboneutral. E ho avuto l'occasione di incontrare un membro della città di Copenhagen che è, diciamo, uno dei responsabili che segue, appunto, il progetto di Copenhagen 2025. E parlando con lui abbiamo detto, appunto, ah, noi siamo già a carboneutral dal 2011. E lui mi fa, ma allora è vero? Sì. E mi dice, perché noi questa cosa l'abbiamo vista, ma siccome poi non abbiamo visto niente, non c'è un'azienda che adopera sta cosa, pensavamo non fosse vero. Ecco, l'aneddoto è purtroppo vero. E quindi direi che si parte da questo, si parte dal fatto che a oggi non ci sono aziende, non ci sono comuni che nella loro comunicazione usano il fatto di essere in un territorio carboneutral. Ora, voi pensate soltanto a che cosa potrebbe voler dire sto volando, eh, pensare di fare una campagna per i turisti dicendo che noi possiamo accoglierne fino a un certo tot. Alle vostre missioni ci pensiamo noi. Io non credo che sarebbe una stupidaggine. credo che soprattutto un turismo di qualità sarebbe molto, molto attratto da un messaggio di questo genere. Pensate ai nostri prodotti. I nostri prodotti che possono dire di uscire non nella loro filiera, magari, nel caso del potere forte probabilmente sì, ma non in tutte le filiere, ma che escono da comunque da una situazione in cui il territorio gli permette di azzerare le proprie missioni. Noi abbiamo delle realtà piuttosto importanti all'interno della nostra provincia che potrebbero beneficiare moltissimo nelle loro esportazioni nel poter narrare questa cosa. Ecco, io credo che un ruolo importante della nostra alleanza sia questo, quello di cercare di convogliare, di mettere insieme le forze per mantenere appunto e per poi dare un messaggio univoco e più che un messaggio, un coro, diciamo, di messaggi che arrivi bene, forte e molto lontano, che siano aziende, che siano territori, che siano comuni, che siano scuole, che sia la nostra università stessa. Bene, grazie. Anche appunto con questo esempio penso che ci ha spiegato bene appunto le potenzialità che potrebbero esserci da adesso in poi da questo punto di vista. Nel frattempo ci stanno già aggiungendo alcune domande nel canale YouTube dell'Accademia dei Fisiocritici. Vi invito a continuare appunto a fare domande appunto secondo le vostre curiosità che emergono da questo dibattito. Tra pochissimo inizieremo a leggerle, quindi tra poco andremo a porre le vostre domande ai nostri ospiti. Adesso però tornerei al dottor Rappuoli del Podere Forte, responsabile della ricerca e dello sviluppo. La mia domanda, sentendo un po' la sua presentazione di prima, è questa. Come si può riuscire ad arrivare a quello che avete fatto voi? Cioè, ci ha raccontato le varie pratiche che sono molto avanzate, quindi immagino che ci sia stata una programmazione, una progettazione già da alcuni anni. Ma io che magari ho una azienda e voglio provare anche nel mio piccolo a fare certe cose, quanto sono complicati nel quotidiano certi gesti? Allora, occorre differenziare gli aspetti diciamo agricoli a quelli burocratici di ufficio, naturalmente. Per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale, di rispetto ambientale, tuttavia, non è indispensabile arrivare a delle certificazioni ufficiali, formali. Cioè, della serie, uno può raggiungere comunque un risultato interessante dal punto di vista ambientale senza avere la certificazione biologica, la certificazione biodinamica, la certificazione ISO 14000, perché comunque sia le operazioni possono essere fatte lo stesso. Infatti, molte aziende, soprattutto quelle meno strutturate, stanno sempre di più attuando diciamo delle procedure che sono praticamente in linea con le certificazioni di cui ho parlato, ma in realtà poi non arrivano alla certificazione vera e propria e quindi non hanno tutti quegli adempimenti burocratici che invece sono difficili da attuare. Noi siamo molto strutturati e quindi ci permettiamo di fare questo e lo facciamo in un'ottica di dare valore aggiunto alle nostre produzioni perché comunque sia queste certificazioni insomma le promuoviamo tramite i nostri canali, il nostro materiale promozionale e così via. Quindi, in definitiva una nuova azienda che volesse intraprendere un percorso diciamo di questo tipo a mio avviso conoscendo poi le dinamiche è molto più semplice rispetto a una gestione di tipo convenzionale o normale. Pensate per esempio agli utilizzi dei fitosanitari. Avere i fitosanitari in azienda implica avere una stanza, avere gli addetti formati, implica fare le visite mediche, l'analisi del sangue, una serie di procedure che sono abbastanza complesse. Quindi, diciamo, andare sul biologico è un po' come tornare a cento anni fa quando in realtà si utilizzava il letame prodotto dagli allevamenti interni per concimare i vari campi e così via. Ecco, questo è un attimino quello che mi permetto di segnalare a chi eventualmente volesse intraprendere un'attività agricola di questo tipo. Naturalmente, certi aspetti come la ricerca scientifica, i droni, questi aspetti sono aspetti un po' più complessi che non tutti magari possono mettere in pratica. Ecco, visto che siamo entrati un po' nel dettaglio, io approfitto perché penso che la domanda che ci ha rivolto il signor Giuseppe Pompucci sia proprio arrivata dopo la sua presentazione. Allora, la domanda è questa, nei sistemi operativi illustrati, quindi queste tecniche che applicate quotidianamente nella vostra azienda, quali o quale potrebbero essere i punti deboli ed eventualmente come possono essere eliminati? Allora, sì, senz'altro non è tutto semplice, quindi ci sono dei punti deboli, come dicevo prima, i punti deboli di questo percorso è la tanta burocrazia che c'è dietro, diciamo, alle certificazioni di cui stavo parlando. C'è per esempio un altro punto di debolezza, il fatto che spesso le normative non tengono conto di questi processi che le aziende stanno mettendo in pratica per migliorare diciamo l'ambiente in agricoltura. Facevo l'esempio prima dei droni, i droni ahimè non sono utilizzabili per fare dei trattamenti in agricoltura perché utilizzo di sostanze anche a basso impatto ambientale come potrebbe essere lo zolfo o il rame che si usano ormai in agricoltura da secoli, ecco, non possono essere utilizzati con i droni. quindi diciamo ci sono delle criticità da superare però credo ecco che approfondimenti giornate come queste un lavoro da parte dell'università di coinvolgimento delle istituzioni sarà fondamentale per cercare di minimizzarle. Grazie Roberto Rappuoli mi state prendendo in parola nel senso che state ponendo già delle domande interessanti allora prima di porre la mia domanda ovviamente faccio passare avanti la vostra perché è rivolta a Giuseppe Gugliotti sindaco di Sovicille lo ricordo presidente della società della salute allora la domanda riguarda proprio le amministrazioni comunali quindi in qualità di amministratore sono concesse anche facilitazioni economiche a tale scopo ovviamente lo chiediamo a lei in qualità di amministratore anche se insomma è riferito immagino appunto all'esempio che abbiamo visto poco fa sì sono diciamo più che facilitazioni economiche che poi qui ovviamente bisogna entrare anche nel dettaglio delle singole amministrazioni e dei comportamenti che sono un po' diversificati però la domanda mi sembra centrata perché credo che in questo essere alleanza cioè in questo patto sostanzialmente che un territorio stringe tra tutti gli attori che lavorano e che remano nella stessa direzione credo che sia importante individuare anche qual è appunto il ruolo degli enti locali io lo identifico sostanzialmente da una parte in un ruolo operativo cioè nelle scelte che gli enti locali compiono sul sul proprio patrimonio sul proprio patrimonio immobiliare sull'efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare lì per l'altro ci sono anche delle risorse in questo senso non solo il patrimonio pubblico fortunatamente delle risorse e dei contributi su in altre in altre azioni appunto di questo genere ma vedo anche un ruolo degli enti locali un po' come che io identificherei definirei come testimoniale sostanzialmente per esempio il il rinnovamento del del parco delle macchine degli enti locali con il passaggio all'elettrico tanto per dire ha un valore che in questo senso può essere appunto un valore come dire testimoniale di testimonianza e in questo senso mi faceva venire in mente prima il professor Bastianoni il fatto che noi potremmo come dire pubblicizzare no o promuovere questa alleanza per esempio anche identificando il il parco auto elettriche degli enti locali con un logo che che richiama al fatto che quella scelta è legata all'alleanza all'alleanza per la carbon neutrali ma credo che ci sia anche un ruolo ulteriore che è appunto quello di da una parte di stimolo e di accompagnamento delle proprie comunità in questa direzione da una parte sotto il profilo educativo e qui è fondamentale il lavoro con le scuole quello che faceva vedere anche Roberto prima con la sua azienda e qui mi fa piacere per esempio che proprio venerdì scorso proprio i ragazzi della nostra scuola media quindi segno evidente che c'è di una prima media fra l'altro segno evidente che questa che l'urgenza anche di 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 prendere di prendere in carico questo tema e di promuovere azioni concrete è sentita a livello anche delle nostre giovani e giovanissime generazioni e questo ci fa piacere proprio una prima media ci hanno invitato a piantare degli alberi a scuola e fra l'altro abbiamo scelto di piantare dei meli autottoni di varietà autottone anche per valorizzare e riprendere la nostra biodiversità e quindi c'è un'azione educativa ma direi che c'è lo dicevo prima appunto un'azione anche di accompagnamento delle nostre comunità che da una parte si concretizza nelle scelte concrete che noi poniamo in essere nel ad esempio nel seguire le evoluzioni in agricoltura ci sono diverse amministrazioni fra cui la nostra che stanno lavorando nella direzione della creazione di biodistretti per esempio quindi accompagnare e far vedere anche rendere consapevoli di quanto questo passaggio anche al biologico sia un elemento di valore anche per le aziende agricole e l'altro aspetto che chiama in causa anche diversi altri attori è quello delle norme che si scrivono nei nostri strumenti urbanistici noi io dico spesso che propagandiamo il passaggio all'autoproduzione di energia elettrica al fotovoltaico poi nei nostri strumenti urbanistici spesso questa la possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici trova degli ostacoli allora qui davvero è fondamentale il patto l'alleanza perché anche con altri soggetti io dico per esempio con il coinvolgimento anche delle soprintendenze per cui c'è un tema anche di come dire di tutela del paesaggio che è una tutela dinamica che in qualche modo deve incrociare anche l'esigenza appunto di una appunto di di produzioni di energia in maniera alternativa e quindi anche di un'evoluzione delle necessità e delle urgenze sotto il profilo ambientale insomma temi che in qualche modo vanno anche un po' oltre l'operatività quotidiana ma che in qualche modo ci interpellano profondamente grazie Giuseppe Gugliotti c'è l'impressione insomma dalle vostre parole che ci sia una necessità di comunicare questo traguardo raggiunto cioè a tutti i livelli anche quello che sta dicendo adesso che ha detto poco fa il sindaco di Sovicilla insomma la necessità proprio di far capire a più livelli dove siamo arrivati e allora qui mi aggancio e chiamo nuovamente in causa il professor Bastianoni a un'altra domanda che ci è arrivata da Chiara Baratto dal punto di vista della semplice comunicazione in loco non sarebbe importante usare ad esempio una cartellonistica in luoghi strategici di accesso al territorio senese ecco proprio il comunicarlo il parlo conoscere così mi rovina le sorprese però o almeno mi chiama a rovinare le sorprese ci stiamo lavorando stiamo lavorando a una cartellonistica in ingresso alla provincia di Siena sulle arterie principali quindi la Siena Firenze a Poggi Bonzi Siena Grosseta ad altezza di Pari Siena Bettolle a Bettolle più o meno e siamo abbiamo e la provincia in questo senso ha dato la spinta principale abbiamo sottoposto all'ANAS una richiesta di mettere dei cartelli che dicano 6 a Siena territorio calboneutra dal 2011 siamo in attesa di notizie dall'ANAS in questo senso e speriamo di averle al più presto nel frattempo ci sono anche altre iniziative e appunto noi come alleanza con il nostro diciamo il partner per la comunicazione che abbiamo scelto siamo a fuorisede abbiamo identificato diversi strumenti per poi far conoscere più in dettaglio altri aspetti è probabile che vengano installati dei totem nelle piazze di alcuni dei comuni della provincia di Siena che raccontano l'evoluzione del progetto e cose del genere quindi io spero che nel giro di non molti mesi vedremo una capillare comunicazione su questo su questo argomento allora sempre al professor Bastianoni farei anche l'altra domanda che ci è appena giunta di Michela Marchi i rimboschimenti e la creazione di nuove aree verdi urbane sono facilitate dagli amministratori pubblici voi che insomma provate a spingere su certi aspetti che sì no volentieri rispondo io ma poi mi piacerebbe anche a me sentire sentire Giuseppe cosa ha da dire no allora a oggi abbiamo visto una grandissima collaborazione da parte delle amministrazioni comunali ci sono molte iniziative in questo senso sarebbe molto importante dal nostro punto di vista che ci fosse una specie di diciamo di catalogo o di di rendiconto più o meno di quanto spazio è stato rimboschito negli ultimi anni perché questo potrebbe sfuggire alle nostre rilevazioni e invece sarebbe importante che questa cosa non succedesse quindi da qui faccio un invito appunto alle amministrazioni comunali che tengano conto di quanto territorio destinano al rimboschimento nell'immediato e nel futuro questa è una delle azioni concrete che può essere fatta da parte sicuramente da parte delle amministrazioni l'altra cosa che diceva prima appunto il sindaco Gugliotti è quella delle cose di provvedimenti da prendere sul settore abitativo quello probabilmente è ancora più importante proprio per l'effetto che ha le scelte che facciamo oggi le ripagheremo poi sbagliate le ripagheremo per i prossimi cento anni se oggi le facciamo giuste invece ce le godiamo per i prossimi cento anni allora visto che il professor Bastionni aveva un po' chiamato in causa sentiamo proprio sullo stesso argomento il sindaco Gugliotti sì io credo che ci sia una sensibilità diffusa da parte degli enti locali su questo tema mi piace l'idea che lancia Simone io professor Bastionni mi permetto di chiamarlo Simone perché siamo stati al liceo insieme quindi chiamarlo professor Bastionni che non è quindi comunque quello che diceva il professor Bastionni mi piace diciamo prefigurava una sorta di come dire di bilancio dei riboschimenti che effettivamente sarebbe anche a livello diciamo di intanto di consapevolezza e di monitoraggio effettivo dei comportamenti degli enti locali ma anche a livello informativo sarebbe effettivamente una azione sicuramente virtuosa mi pare che la domanda se non ho sentito male vertesse anche un po' sulle piantumazioni urbane diciamo e anche questo è un tema rilevante sul quale direi credo che sarebbe importante appunto anche che con l'università con le accademie come questa insomma ci fosse un'interlocuzione perché anche qui è importante che ci sia questa questa azione virtuosa da parte degli enti locali sulle piantumazioni urbane ma è importante anche scegliere bene quale piante si 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 destinano alle nostre ai nostri centri urbani appunto ai nostri giardini ai nostri parchi a quale piante si destinano a lungo strada no? perché non non tutte le piante sono adatte qui credo appunto che un lavoro anche scientifico in questo senso sarebbe di grande supporto per gli enti locali no? spesso vediamo piantumazioni che lungo strada sono assolutamente inadatte quelle creano più problemi che non portare benefici per cui credo che anche in questo forse ecco istituire mi fare un po' le parole di Simone fossero anche queste darci degli obiettivi anche in questo senso magari forse istituire anche una sorta come dire di disciplinare e lavorare appunto su dei progetti condivisi che abbiano poi anche dei riscontri che abbiano un monitoraggio effettivamente quantificabile insomma percepibile in termini anche oggettivi un'altra domanda sempre la rivolgo al professor Bastianoni e poi introduco un altro argomento ecco la domanda è questa parte un po' da quello che ha detto lei come introduzione nel senso che la nostra realtà ha assunto questi comportamenti e ha appunto ricevuto questi riconoscimenti ormai da tanti anni quindi lei ha detto è e può diventare un modello ecco ci sono e questa la domanda che ci rivolge Andrea Benocci ci sono altre realtà territoriali che hanno preso spunto dalla provincia di Siena per avvicinarsi agli obiettivi della carbon neutrality la risposta è sì in questo momento la provincia di Parma ma sta facendo esattamente lo stesso nostro percorso ha cominciato con una la creazione di un'alleanza territoriale per la carbon neutrality a cui partecipano gli ordi industrie una una regione molto attiva soprattutto con la sua vicepresidente il sindaco di Parma ho partecipato anch'io mi hanno invitato appunto proprio per chiedermi come si faceva ecco a diverse riunioni sindaco di Parma che insomma ha un ruolo politico importante partecipa alle riunioni passandoci le sue quattro ore in interrotte facendo domande intervenendo molto a proposito diciamo loro hanno preso il nostro percorso e lo stanno facendo a grande velocità questo lo devo dire noi ci abbiamo messo un po' più di tempo loro ovviamente partiranno da una situazione molto molto più svantaggiata della nostra da un punto di vista dei numeri però da un punto di vista di impatto del sistema produttivo sull'alleanza devo dire che sono partiti con numeri molto importanti la provincia di Belluno ha cominciato da qualche mese il percorso di monitoraggio dei Gasserra la provincia di Mantua sta seguendo con qualche mese di ritardo la provincia di Parma quindi si stanno moltiplicando le cose gli esempi di territori che ci stanno se non copiando diciamo che si stanno ispirando alla nostra esperienza grazie ancora professor Bastianoni io vado avanti con le domande a Roberto Rappuoli la prossima anche se poi dopo voglio introdurre un nuovo tema e riparterò proprio da lui la domanda arriva di nuovo da Giuseppe Pompucci e qui si parla di complessità dell'iter burocratico ecco in tema di semplificazioni cosa richiedere al governo insomma voi che appunto avete in prima persona fatto certe azioni e vi siete trovati nel pratico nel quotidiano ecco quanto è difficile realmente la parte burocratica questa domanda è perfetta perché colgo l'occasione appunto per fare una segnalazione occorre nell'ambito delle certificazioni cercare di togliere diciamo un po' di forma e aggiungere un po' di sostanza mi permetto di dirlo perché ahimè spesso siamo di fronte a degli audit di certificazione complessissimi a volte anche di difficile interpretazione a volte anche non in linea con gli obiettivi che quella certificazione dovrebbe dare e magari ahimè trascurando anche degli aspetti a tutela del consumatore questo lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico perché comunque ho elementi per poterlo fare naturalmente questo non vuol dire che noi ci adagiamo da questo punto di vista non andiamo oltre come abbiamo detto nella presentazione anche alle varie certificazioni però questo è un problema serio c'è la norma che purtroppo a cui dobbiamo sottointendere perché sono leggi dello Stato parlo in particolare del biologico sono norme complesse talvolta però che ecco appunto che vanno a cercare il pelo sull'uovo su delle cose banali e magari non c'entrano il problema su altri aspetti a tutelare il consumatore questo è il primo punto quindi una rivisitazione della norma mirata alla sostanza all'interesse del consumatore la seconda il costo il costo della certificazione perché certificarsi ha un costo e quindi per evitare poi alla fine che sul banco della frutta della verdura o sul banco dell'enotea un vino biologico costi di più rispetto a un altro e quindi preludere l'acquisto di un prodotto biologico a un certo tipo di scelto sociale tra virgolette di persona di reddito e così via non è giusto quindi il biologico dovrebbe essere in qualche modo ridotto come costo di certificazione mi sento di dire in risposta anche a quella domanda che è stata posta al sindaco Gugliotti che in realtà le istituzioni comunque stanno facendo molto verso il biologico penso soprattutto alle misure del PSR che oggi ma proprio negli ultimi mesi hanno dato delle grosse opportunità a chi si sta convertendo a biologico quindi io ho visto tante aziende che per anni si sono ostinate a continuare a lavorare in maniera convenzionale e che tutto un tratto sono passate al biologico quindi è anche un incentivo in qualche modo per aiutare le aziende ad andare avanti ovvero più etti rimetti e più soldi hai in fondo all'anno quindi questo è un tentativo dell'amministrazione di aiutare chi coltiva d'altra parte ci sono costi di certificazione che a me invece non vanno allo Stato ma vanno agli enti di certificazione che non sono irrilevanti ecco il tema del quale parlavo prima e il resto proprio su Roberto Rappoli è quello un po' legato al turismo poi su questo vorrei sentire anche gli altri ospiti visto che appunto tutte queste pratiche possono in qualche modo servire per oltre a valorizzare appunto il primato della nostra città Siena che poi appunto è il titolo della nostra tavola rotonda a valorizzare appunto il territorio e renderlo ancora più appetibile ecco da questo punto di vista voi che come azienda avete certe certificazioni e state quotidianamente utilizzando certe pratiche cosa riscontrate dal punto di vista turistico? Allora naturalmente l'analisi va fatta quando si parla di turismo non limitatamente ai nostri terreni alla nostra azienda a un contesto territoriale ecco la Val d'Orcia ma anche tutta la provincia di Siena credo che negli anni ha dimostrato che delle politiche di salvaguardia dell'ambiente hanno portato a uno sviluppo del turismo oggi il turismo a cosa è legato? è legato all'arte alla storia ma oggi in questi mesi più che due anni fa prima del covid è legato molto al paesaggio all'ambiente perché oggi la gente ahimè non va più nelle città d'arte purtroppo ma fortunatamente invade le campagne perché sono luoghi in cui la gente ha voglia di libertà di ambiente sano e quindi avere un ambiente sano avere un paesaggio che poi è diventata un po' sono diventati alcuni luoghi anche dell'icone dell'icone turistiche la gente viene e vuole farsi la fotografia perché c'è il campo bello dove un tempo non si vedeva nemmeno un papavero e oggi invece sono in base di papaveri grazie alle buone pratiche agricole perché in tempo magari ecco l'uso dei diserbanti hanno in qualche modo limitato questo tipo di fioriture quindi senz'altro il turismo è legato tantissimo alle misure ambientali i prodotti agroalimentari i prodotti quindi di qualità il formaggio l'olio tutte le sagre che vengono fatte sui prodotti che portano flussi turistici importanti economia che a mio avviso è l'unica economia possibile di questo territorio tra l'altro sulle foto ultimamente ci sono anche delle problematiche perché molti turisti si fermano lungo la strada creando a volte anche dei disagi però forse per chi viene da altri territori quando insomma ci si trova di fronte come diceva prima il dottor Rapuoli al territorio della Val d'Orcia o comunque a tutto il nostro territorio insomma dobbiamo anche pensare che sono territori unici i nostri e quindi forse è anche normale che ci sia attenzione da questo punto di vista e proprio sul turismo vorrei tornare dal sindaco Gugliotti visto che insomma è una tematica alla quale insomma le amministrazioni e comunque le amministrazioni del nostro territorio sono molto attente proprio perché può essere una risorsa come ha detto poco fa Rapuoli è una risorsa centrale è un asset strategico soprattutto per territori come i nostri lo diceva prima Rapuoli fra l'altro anche per l'esperienza e per l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto c'è un'attenzione particolare rivolta alla campagna al territorio aperto quindi al turismo che è incentrato sul godimento dell'ambiente del paesaggio soprattutto sul godimento dell'ambiente sano credo che sia importante anche sottolineare il fatto che il turismo è sempre più esperienziale e in questo noi abbiamo appunto un patrimonio straordinario perché noi dobbiamo in questo senso come dire veicolare il messaggio che l'esperienza che si fa qui è un'esperienza che non si fa da nessun'altra parte c'è un'esperienza c'è un turismo esperienziale legato all'enogastronomico all'enogastronomia che ha le sue peculiarità ma in questo senso c'è un'esperienzialità che riscopre anche l'agricoltura e quindi l'agriturismo forse nella sua versione nella sua accezione anche originaria più autentica cioè quella per qualche anno l'agriturismo si era un po' convertito in una ospitalità in campagna ma che aveva sostanzialmente le connotazioni ancora le ha insomma le connotazioni del di una qualsiasi struttura ricettiva che invece di essere in città era in campagna l'agriturismo era nato e nato autenticamente per essere un'esperienza a diretto contatto con il nostro mondo agricolo con il mondo della nostra produzione della nostra produzione della nostra vita nei campi quindi credo che in questi ultimi anni questa dimensione si stia riscoprendo e in questo senso credo che avere un'agricoltura che ha queste peculiarità anche questa attenzione alla biodiversità per l'appunto l'attenzione a tecniche agronomiche lo diceva Roberto prima che in qualche modo forse non sono di duemila anni fa ma insomma in qualche modo mantengono viva una tradizione sono sicuramente degli asset di valore anche per l'attrattività turistica e quindi in questo senso ecco in una accezione lata più estesa della nostra alleanza credo che il il valore anche di un'esperienza appunto come l'alleanza della carbon neutrality abbia si riversi in tutta la sua portata anche proprio nell'attrattività del nostro territorio turistico grazie a Giuseppe Gugliotti torniamo al professor Bastianoni i nostri insomma spettatori sono bravissimi stasera perché colgono il momento giusto di fare le domande e ci aiutano molto in questo dibattito per renderlo anche più frizzante e più divertente allora proprio per lei questa domanda professore Lorenzo Innocenti ci chiede la carbon neutrality è dovuta alla forte presenza nel del territorio boschivo o al fatto di aver messo in atto pratiche virtuose e azioni concrete se sì quali? Allora a tutte e due ovviamente una cosa senza l'altra non avrebbe fatto ottenere il risultato ma anche il fatto di avere un buon patrimonio boschivo e tenuto con una certa cura e con una salvaguardia rispetto agli incendi per esempio importante è un aspetto che è stato decisivo è stato decisivo all'inizio per avere il 72% quando abbiamo cominciato le liberazioni e è stato importante per raggiungere il minimo del 108% quando appunto siamo arrivati al diciamo al punto di massima di massimo assorbimento rispetto all'emissione le buone pratiche sono state importanti lo stesso perché nel contempo quello che è successo appunto la buona pratica sulle caldaie ha voluto dire meno 30% per utenza nel frattempo le utenze sono aumentate fra l'altro quindi diciamo che probabilmente su quell'aspetto lì abbiamo diminuito di un 20% circa sull'uso di combustibili per riscaldamento per il per la locomozione più o meno siamo stati tra il punto iniziale e i punti di minimo consumo più o meno allo stesso livello sul 15-20% in meno quindi diciamo le cose sono avvenute sia per la parte di aumento di boschi e aumento di miglioramento della gestione dei boschi e anche per una maggiore attenzione nelle emissioni ricordo che negli ultimi anni invece il trend si è invertito e quindi ci sono più emissioni per soprattutto dal settore energia allora siamo in chiusura del nostra tavola rotonda io ringrazio ovviamente coloro che da casa ci hanno posto le loro domande vorrei chiudere nuovamente con il professor Bastianoni riallacciandomi un po' a quello che ha detto prima lei ha detto che quello che abbiamo raggiunto è stato raggiunto grazie a una pianificazione partita tanti anni fa grazie anche alla politica del tempo che ha investito su questo oggi ha detto è urgente intervenire nuovamente proprio per mantenere questo risultato come si fa quindi nel pratico oggi per mantenerlo e come è possibile intervenire le possibilità di intervento sono tante ma quella che diciamo che mi sta più a cuore è sono le cose piccole che ciascuno di noi può fare non sto parlando di di grosse rinunce ma se ognuno di noi facesse un grammo in meno di emissioni di CO2 sarebbero 250.000 grammi ovvero 250 tonnellate di CO2 in meno in atmosfera che sono invece un numero interessante questo è un grammo a testa quindi fare un grammo di CO2 vi assicuro non ci vuole proprio niente se si se si respira un po' meno più o meno facciamo la stessa cosa quindi direi che la cosa si sta pensando a rinunce grosse si sta pensando anche a cose di miglioramento in ciascuna azienda cose di miglioramento in ciascuna amministrazione cose di miglioramento in ciascuna delle nostre case ognuna di queste cose appunto moltiplicato per un numero importante diventa un numero importante diventa un qualcosa che ci garantisce un futuro carbon neutral per un lungo tempo perché man mano poi ecco qui il discorso valorizzazione ci ritorna un attimo sopra perché valorizzazione vuol dire dare valore noi dobbiamo essere i primi a dare valore a questa cosa noi dobbiamo essere i primi a dare valore ai nostri paesaggi e non darli per scontati dobbiamo essere i primi a essere orgogliosi di quello che abbiamo perché se andiamo in giro da altre parti magari vediamo che le cose non sono esattamente belle come da noi nella nella larga parte dei dei casi quindi diciamo la valorizzazione comincia da anche da una presa di coscienza di quello che abbiamo da un cercare di migliorarsi quello sempre perché non è possibile cercare di migliorarsi soprattutto in un mondo che va diciamo in una direzione opposta e quindi è importante comunque continuare a dare il nostro contributo anche se noi siamo carbon neutral come dico spesso non è che possiamo alzare le mani e dire ok questa cosa non mi riguarda più purtroppo il mondo va nell'altra direzione approfitto di quest'ultimo di quest'ultimo pezzetto per ringraziare tutti voi per questo pomeriggio molto molto interessante e stimolante anche per me che lo confesso a volte comincio a annoiarmi a parlare di queste cose perché devo ripetere molto spesso le stesse cose è una cosa che non mi piace tantissimo però invece gli stimoli di stasera sono stati molto 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 importanti grazie a grazie a lei e grazie ai due amici qui accanto ringrazio in ultimo ma non per ultima la dottoressa Bratto perché ha veramente con una maestria particolare riuscita a giostrare tutto quello che è stata l'organizzazione di questa serata nel prima e nel durante assolutamente confermo e mi unisco a questa ultima considerazione grazie allora al professor Simone Bastianoni per essere stato con noi grazie al sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti per grazie a voi davvero i suoi interventi grazie al dottor Roberto Rappuoli responsabile della ricerca e sviluppo del Podere Forte grazie per essere stato con noi dunque chiudiamo come detto Carbon Neutrality come valorizzare il primato di Siena questo era il titolo della nostra tavola rotonda ci auguriamo di aver dato il più possibile delle risposte o comunque di aver aiutato anche una riflessione su questi argomenti che necessitano come diceva poco fa il professore non tanto di parlarne molto ma di metterli in pratica e ci auguriamo che pian piano si vada in questa direzione e come risposta appunto a questa domanda che parte un po' anche diciamo dalla conoscenza popolare io vi invito a seguire i social dell'Accademia dei Fisocritici nei quali c'è appunto anche il Carbon Neutral Challenge lanciato proprio dall'Accademia e dall'alleanza appunto per territoriale Carbon Neutrality Siena direi che è tutto grazie a tutti voi per questo pomeriggio molto interessante grazie ovviamente all'Accademia dei Fisocritici che ci ha ospitato una buona serata a tutti